La sinistra poco sfruttato, ancora piccoli anche se in quel pochissimo che ha fatto vedere, ha fatto vedere una grande incursione sulla sinistra con il colpo di testa all'ottavo minuto di Peccarisi appena sopra poco la traversa. E' Pestrin, vedete difesa schierata al limite dell'aria, parte il suggerimento di Pestrin dalla parte opposta, palla al centro e poi c'è il, e c'è il, mamma mia, mamma mia, incredibile, 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 davvero incredibilmente sfortunato il Cesena, intervento di Borghetto, intervento, poi adesso addirittura c'è il rilancio, siamo al 49esimo, un minuto di gioco, l'ultimo minuto di gioco, azione per il Cesena, Bernacci, Cavalli, fermato il suo tiro, Ambrosioni, e va fuori. Il risultato è ovviamente sempre fermo sullo 0-0, Pestrin, Pestrin ancora, allarga per Biserni, c'è la possibilità del tiro, lo prova Biserni, no, no, gol di Biserni, grande gol di Biserni, Cesena in vantaggio, grandi gol di Biserni, Diversione, il Cesena in vantaggio, al 10 minuto, 35 secondi, la Serie B si avvicina, capolavoro, capolavoro di Biserni, grande, grande, e il Cesena che si può distendere, ancora forse per il Cesena. Ranalli, 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 Largo per Cavalli, per Cavalli, Cavalli, uno contro uno, il tiro, fuori. Oh, lo avevo visto dentro, lo avevo visto dentro. Non si può sbagliare, attenzione, non si possono sbagliare queste cose, era Biserni intanto, ad aver compiuto quella cavalcata splendida sulla destra, non era Ranalli. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Tredicesimo minuto 18. Dovremmo soffrire ancora tanto, dovremmo soffrire ancora tanto. Forza ragazzi, forza, forza, anche Bernacci che dà manforte al reparto difensivo. Ora, ora tutti in difesa naturalmente, di testa, attenzione, Lumesane che entra in area, c'è un ripallo, ancora il gol. Il gol di Russo. Il gol di Russo. Picchiato, attenzione, attenzione, cosa succede? Cosa succede? Castori picchiato in mezzo al campo, incredibile, incredibile, Castori che viene picchiato in mezzo al campo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ma cos'è, ma cos'è, ma cos'è, mamma mia, mamma mia, ragazzi. Ho visto Castori letteralmente picchiato in mezzo al campo. Mamma mia, mamma mia, cos'è incredibile, cos'è incredibile. Attenzione ancora, c'è qualcuno che sta male in mezzo al campo, attenzione. Caccia all'uomo, una vera e propria caccia all'uomo. Mamma mia, incommentabili queste... È accaduto di tutto. Incommentabili queste immagini, purtroppo, purtroppo incommentabili queste immagini. Davvero difficile riuscire a commentare cose che non abbiamo visto, ma cose incredibili. Incredibile, incredibile. È sembrato di aver visto Castori addirittura picchiato in mezzo al campo da alcuni giocatori dell'Umezane. Una parapiglia incredibile, incredibile. Adesso vediamo cosa deciderà l'arbitro. Il gioco naturalmente... Russo, appena entrato in campo, ha realizzato il gol dell'1-1. Un sacco di gente in campo. Davvero incredibile. Un sacco di gente in campo. All'Umezane. Appena due minuti dopo il gol del Cesena. Vediamo un po'. Il gol. Vediamo se abbiamo qualche immagine di quello che è accaduto sul terreno di gioco. No, mi dicono... Mi dicono che non c'è niente. Stiamo vedendo solo il replay. L'Umezane che spedisce in avanti. Ancora Peccarisi. Peccarisi. Allarga. Sbaglia però tutto. Serve Sinigallia. Sinigallia. Per strada. Strada. Assunisce a Biserni. Va giù. C'è il fallo. Mamma mia. Strada a terra. Ancora qualche istante prima che venga battuta la punizione. Intanto è già... Ammonito strada e espulso. Espulso strada. Espulso strada. Ammonito e espulso. Per avere perso tempo, espulso strada. Un minuto di gioco. Attenzione. Il secondo tempo è espulso strada. Dove vai Indiveri? Dove vai Indiveri? Dove vai Indiveri? Calmo, calmo. Gianni... Arci fino alla fine. Con un uomo in più. I giocatori dell'Umezane. che sono vittime di crampi. Sono indiversi. Sinigallia soprattutto, che ora guadagna la metà campo offensiva. Il solo russo in avanti che colpisce di testa a Peccarisi. Per Bocchini. da larga immediatamente a Ranalli. Ranalli, ancora lui. Si propone Viserni. Viserni. Buona, buona, buona. Cavalli, 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 Cavalli. Il cross. Gol! 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 Ambrugioni! Gol! Ambrugioni! 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 Gol! Cazzo! Ottavo minuto di gioco. E c'è il 2-1 per il Cesena. Forza, forza! Forza, forza! 8 minuti di gioco. 2-1 in favore del Cesena. C'è il replay, vediamo. Mamma mia! Cavalli, il cross. Il cross che supera anche Bernacci. Ambrugioni di testa. Magnifico! Magnifico Ambrugioni! 2-1 per il Cesena. Colona personalmente una prestazione. Stupenda. Anche in vantaggio numerico. 8 minuti e 45 di gioco. Partita interminabile. Partita. Davvero difficile anche per noi fare questa telecronaca. Incredibile, incredibile. Ma io credo davvero che anche davanti agli schermi in Romagna i tifosi del Cesena stiano davvero il passendo di gioia. Così come non riesco ad immaginare quello che potrà eventualmente accadere. Credo che sarà accadendo agli ultimi residui di forza fisica. Ma a questo punto è davvero il fisico che deve resistere. batte il calcio di punizione. Il calcio di punizione centi. Centi in mezzo. Attenzione. Traversa! Traversa! Di russo! Traversa di russo! Forza e fallo. 16-0-10. Ci fa male anche Fra Cassetti. Ha morito anche Fra Cassetti. Fra Cassetti ha morito. Con falone a terra. Giù con falone. 16-16. Manca. Giù Salinelli. Manca meno di un minuto. 16 minuti e 20 secondi. Meno di un minuto. Meno di un minuto al termine della partita. Meno di un minuto dividono il Cesena. Meno di un minuto divide il Cesena dalla meia finale. Forza! 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 Bene. Peccarisi. Peccarisi. 16 minuti e 40 secondi di gioco. Ranalli. Colpo di testa. Arrivare a Bernacci. Con falone. Bernacci. Con falone. Con falone che cerca il calcio d'angolo. Sarebbe finita se riuscisse a trovare il calcio d'angolo. No. E' la rimessa in favore del Lumezzane. 16 minuti e 57 secondi di gioco. E il finiscanto è gioco! In Serie B! Siamo in Serie B ancora! Siamo ancora in Serie B! Siamo ancora in Serie B! Siamo ancora in Serie B! Grandi! Orre 19.05 del 20 giugno 2004. Il Cesena torna in Serie B. Di risa al centro del campo. Noi torniamo in Serie B. Onore e merito all'umelanzane.